e allora Valentina doveva essere e Valentina c'è Valentina grazie buonasera bentornata perché ormai sei diventata di casa alla fusione tu o mai grado e quindi grazie 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 ciao Alfonso ciao a tutti i tuoi ospiti grazie a voi perché mi aprite le porte di casa vostra ma figurati diciamo che proviamo a fare qualcosa di utile tra l'altro tu capiti qui da noi venerdì 17 e scaramanticamente non è una grandissima bella data però questo è e questo ci prendiamo e tra l'altro grazie Valentina perché dai la possibilità se non altro di un confronto laddove c'è qualcuno che apre bocca senza neanche sapere che cosa dice o peggio ripetendo frasi e pensieri altrui qui invece no qua è il confronto libero magari anche scomodo ma libero Valentina tu conosci la fusione in diretta conosci come siamo abituati a fare streaming conosci forse un po' così la fusione in sé però quello che ci preme dire è che dobbiamo vogliamo pretendiamo di ragionare in modo libero aperto senza né preclusioni né preconcetti e se è possibile senza stelline senza like senza sottoscrizione e quant'altro quindi massima massima assoluta libertà ancora una volta grazie per essere qui e siccome il tempo è tiranno e ti vediamo in una location un po' strana che sembra quella della tua ormai mitica automobile confermaci se è così no 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 ti stai sbagliando non sono assolutamente nella mia auto sono a casa mia quindi nella mia dimora mobile è diventata più famosa di quella di Batman ormai questa automobile nera tra l'altro che insomma facciamo cerchiamo tutti di salirci a bordo in un modo o nell'altro e chissà che prima o poi non possa accadere Valentina naturalmente le scuse se la iniziamo con un sorriso ma il sorriso è la tua cifra e siccome gli argomenti che tireremo fuori non credo che ci faranno sorridere tanto allora iniziamola così con un sorriso io vado allora a bomba perché ho tantissime cose da chiederti e dunque il titolo della diretta è questo da Appiano a Maranello ci siamo trasferiti dall'Alto Adige all'Emilia e la situazione praticamente si ripropone posso dire più nemmeno? Diciamo che c'è una piccola differenza la conferma di un mese di distanza tra l'uno e l'altro presidio che confermano e hanno confermato come io non abbia commesso nessun reato perché nonostante con la mia auto in quel mese abbia girato tutta l'Italia e mi sia spostata tranquillamente non c'è stato nessun fermo da parte delle forze dell'ordine quello che è accaduto accade ancora una volta a causa di dipendenti comunali quindi facciamo attenzione a questo riferimento dipendenti comunali questo lo sottolineo e lo lascio un attimo in sospeso perché naturalmente chi segue Valentina ha l'obbligo, il dovere di seguire anche quello che dice durante le sue dirette o comunque quando trasmette sui canali social quindi lasciamo questo punto in sospeso così come è accaduto per Appiano il sottoscritto facendo come dire una piccola pressione ma non per altro ha fatto valere la propria qualifica professionale e così come ad Appiano ha scritto anche alle autorità di Maranello segnatamente la polizia municipale e il sindaco mentre da Appiano le notizie sono arrivate ma con molto ritardo dobbiamo dare atto alle autorità di Maranello alle autorità amministrative di essere state molto tempiste e qui leggo per tua conoscenza Valentina ma anche per chi segue la diretta il contenuto della risposta io chiedevo di avere informazioni sulla tua vicenda e naturalmente invitavo anche sindaco e comandante della polizia municipale ad essere presenti in diretta perché così si fa risposta buongiorno signor Palumbo riguardo alla vicenda da lei richiamata ci limitiamo a precisare come la polizia locale abbia semplicemente applicato alle normative vigenti come suo dovere fare impedendo che un veicolo non assicurato e già sotto sequestro potesse circolare rientrando questo episodio nella ordinarietà dei nostri interventi pertanto non sono stati pubblicati comunicati stampa né intendiamo intervenire durante le sue trasmissioni web la ringraziamo per la correttezza eccetera 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 quindi Valentina non so se questa informazione ti può essere utile però loro rispondono e dicono che a te la parola questa informazione continua a confermare l'errore nel quale si trovano e che mi ha permesso di anticipare una denuncia rispetto a quello che è stato invece a piano mentre lì ho atteso 30 giorni per poi produrre la mia denuncia completa qui ho già prodotto una denuncia memore di una persecuzione in atto visto esserci delle indagini aperte per quale motivo perché io ho una denuncia aperta rispetto al 16 di gennaio dove sempre dipendenti comunali a Follonica eseguono la stessa azione non portandola fino in fondo ma rubandomi le taghe poi apro un'altra denuncia che è quella dopo 30 giorni di appiano rispetto a tutta la vicenda dei 30 giorni e quindi tutti i reati in essere prodotti e poi essendoci quindi questa persecuzione in atto ecco la terza comunicazione quindi la terza denuncia che io produco la notte stessa del 14 di marzo quindi sono molto curiosa a questo punto di vedere come andranno avanti gli eventi perché questa volta io non ho intenzione di togliere la patata bollente a nessuno nel senso che io attenderò fino a quando non sarà davvero la magistratura a dare una fine a questa storia per quale motivo perché non saranno le intimidazioni da parte di nessuno anche le più brusche a portarmi via da qui autonomamente legittimamente come ho già fatto per quale motivo perché nella denuncia ed è il motivo per il quale ho prodotto anticipatamente questa denuncia il 14 notte perché ho preventivamente già legittimato la mia autodifesa in caso di aggressioni non bloccate dalle forze dell'ordine da me chiamate in tre comunicazioni quindi ho già anticipato che nel caso in cui si dovessero ravvedere delle azioni di aggressioni nei miei confronti io da prima chiamerò la volante dopo la terza comunicazione se non arrivasse sul luogo la forza di polizia io sarò legittimata all'autodifesa quindi a questo punto quel che avviene avviene beh autodifesa lascia aperta diciamo come concetto lascia aperta l'interpretazione più come dire più articolata auguriamoci che non debba essere anche perché non cioè così come già avevo scritto perché poi io sai faccio la manuenza mando mail il giro per il mondo e sai aggressioni di tipo squadristico non credo che siano molto tollerate né in Alto Adige né voglio dire in Emilia lì è terra di motori è terra di Lambrusco dovrebbero come dire interpretare la vita in altro modo ma permettimi di essere sarcastico Valentina ti faccio per un'altra domanda ora Alfonso volevo precisare un'altra domanda in modo tale spero che arrivi a coloro i quali ti hanno risposto i signori parlano di regolamentazione normativa ancora una volta confermano come non si stia parlando di legge ed è proprio questo l'errore che loro si rivolgono ad un soggetto giuridico non ad un oggetto giuridico quindi non possono applicare la normativa la regolamentazione ecco per quale motivo c'è un grosso grosso errore nelle loro valutazioni e sarà la magistratura a fare il suo corso anche perché non so se me l'avresti domandato più avanti ma te lo anticipo sul luogo il 14 io ho chiesto l'intervento ovviamente delle forze dell'ordine le forze dell'ordine nella veste dei carabinieri non soltanto si è limitata alla mia identificazione confermando che non c'erano reati in essere e quindi non avrebbero prodotto nessuna verbalizzazione del caso ma la referente del gruppo di dipendenti comunali in costume addirittura addirittura ha contattato magistratura e fino ad arrivare ad ottenere la presenza della digos anche in quel caso non solo la magistratura l'ha accompagnata alla porta telefonicamente ma quando la digos è arrivata ha confermato che non c'era niente da fare ma scusami tu per caso sei alla guida alla testa di qualche partito politico movimento setta gruppo che ci azzecca direbbe il buon la digos ragazzi la faccenda si fa sempre più posso dirlo interessante per chi la vede da fuori naturalmente non per te che ci sei dentro fino al collo quindi io veramente chiedo sempre scusa di questi colpi di sarcasmo ma Valentina capisci bene se serve l'ambulanza ma che vengono a fare i vigili del fuoco ecco ed è stato proprio l'accezione che hanno avuto i due referenti della digos nel tranquillizzare coloro i quali dall'alto li hanno contattati dicendogli non si tratta nient'altro chiede una signora che conosce la legge quindi noi torniamo a casa torniamo a casa tra l'altro Mirko Cristiano Augusto Artuso possiamo avere l'indirizzo di dove si trova il presidio a Maranello che veniamo a supportarti buona serata se ritieni opportuno di darlo tutto è ben accetto soprattutto la presenza di coloro i quali ci aiutano a far capire che non siamo isolati io soprattutto non sono isolata via nazionale ecco lo scriviamo pure così rimane agli atti via nazionale a Maranello immagino che via nazionale a parte la sede della casa automobilistica è la via principale e poi come riferimento puoi dare pizzeria il segreto di Pulcinella ci sta a fagiolo pizzeria il segreto ma neanche lo sceneggiatore che vinci i premi Oscar via nazionale pizzeria il segreto di Pulcinella gli facciamo anche pubblicità Maranello Modena dove rombano i motori per chi non avesse diciamo allora Valentina cerchiamo io cerco di recuperare un minimo di serietà e ti chiedo facciamo finta che ci possa essere che ci fosse un osservatore però di quelli seri quegli osservatori che ad esempio si riempono la bocca con il concetto dei diritti umani allora mi chiedo un tale osservatore avrebbe il diritto avrebbe la come dire l'investitura di segnalare una eventuale violazione ai tuoi danni di questi diritti umani potrei anche dire ma chi all'ONU dice beh non parlare dell'ONU ti prego che però avrebbe senso una segnalazione in una sede competente non lo so dimmela tu a me viene l'ONU però magari non è la sede più appropriata cosa che abbiamo già fatto da parte nostra gli attenzionamenti e questo quello che c'è in ballo Alfonso è molto più grande di quello che si possa pensare gli attenzionamenti alle ripercussioni che ci sono state sulle nostre persone sono già avvenuti nei mesi precedenti quindi coloro i quali si stanno prendendo la responsabilità di mettere in atto queste aggressioni dal verbale al fisico magari non subito ma al tempo debito tutti ne dovranno rispondere e coloro i quali vogliono continuare a sottolineare ad attenzionare questa mancanza di rispetto dei diritti umani soprattutto su soggetti ad oggi diplomatici perché noi me l'hai rubata perché tu sei un soggetto diplomatico perché poi la gente si prende la testa se la sbatti al muro e non capisce Valentina adesso io sono un soggetto diplomatico perché rendendomi responsabile autonoma dello stato di me stessa e dichiarandomi responsabile della sicurezza di questo territorio automaticamente io sono resa diplomatica rispetto alle autorità quindi le autorità tengono di conto la mia persona anche per aiutare loro a gestire il territorio e per autorità non sto intendendo il comune o la polizia municipale ma la vera autorità e cioè l'autorità di polizia e l'autorità di polizia è la polizia di stato non la polizia privata altro concetto importante che abbiamo ascoltato spesso tu definisci le amministrazioni comunali come degli indi perché altrimenti poi non concludiamo non concludo io in particolare il modo il concetto e mi dispiace quando tu mi hai chiesto a chi ritieni opportuno eventualmente segnalare attenzionare non solo alla magistratura e quindi alle procure alle questure alle prefetture che sono gli stessi nostri interlocutori non solo a loro e territoriali molto importante ma a quella che è la corte internazionale ok già la corte internazionale comincia ad acquisire come dire un portato interessante importante qui diciamo i confini si ampliano altro che l'Alto Adige e altro che l'Emilia con tutto il rispetto per i territori naturalmente di riferimento però c'è anche un'altra domanda perché spesso ascoltiamo dalle tue labbra definire queste amministrazioni comunali come enti privati perché sono tali purtroppo non ci sono più enti statali sul territorio italico all'incirca dagli anni ottanta in maniera molto progressiva lenta silenziosa le varie amministrazioni statali a partire dalla scuola all'agenzia delle entrate al ministero dei trasporti e quindi alla motorizzazione civile sino ad arrivare ai comuni la gestione è divenuta aziendale infatti come per le scuole si parlava di preside oggi si parla di dirigente così per la la motorizzazione civile oggi si parla di ministero dei trasporti la motorizzazione civile è un braccio ma non è più la motorizzazione civile così la delega che la prefettura lascia al sindaco cioè lo stesso ha la possibilità di firmare il tesserino che regolamenta la pubblica sicurezza dei suoi dipendenti quindi la polizia municipale non ha il tesserino firmato dal prefetto come deve essere ma lo ha firmato dal sindaco e questo è un passaggio una chiave un chiarimento molto importante perché non ci devono essere fraintendimenti ok perché la polizia di stato è dipendente dello stato mentre invece la polizia municipale locale è dipendente del comune quindi chi è che paga la polizia municipale il sindaco chi è che paga la polizia di stato noi il popolo il popolo giusto giusto per completezza di informazione poi passiamo alla domanda il sindaco di Maranello si chiama Luigi Zironi la comandante della polizia urbana Elisa Ceresola alla quale insomma entrambi abbiamo esatto ora domanda di Sonia ma Valentina ma se lei è apolida quindi cittadino del mondo perché si è soggetta alla costituzione italiana? allora l'apolide che è cittadino del mondo è tenuto a seguire la legge del territorio in cui risiede la legge non la legislazione successiva ogni territorio ha la legge primaria e quindi per quanto riguarda l'Italia la costituzione questo è l'articolo 2 dello statuto apolide quindi io sono soggetta perché che fa parte della mia legge quindi non è un problema per me perché io riconosco la costituzione molto volentieri perché la conosco e la costituzione è fantastica perché la costituzione educa non punisce e quindi io non ho nessun tipo di problema a riconoscerla io non riconosco tutto ciò che è successivo alla costituzione perché è fondamentale ok ed è fonte secondaria di secondo livello giusto? esatto tu da questo punto di vista rispetto ad esempio a qualcuno che è qui presente e segue il percorso di autodeterminazione sei molto più tollerante sei molto più buona perché consideri la costituzione un testo sacro qualcuno invece è un po' più cattivo e fa proprio le pulci e le virgole però queste sono disquisizioni che interessano a nessuno l'importante posso approfittarne? certo sono qui nella mia fissa di mora mobile che in questo momento è fissa esatto è paramobile sì questo allora guarda vabbè io porto con me sul mio cruscotto alcuni articoli poi ho il mio tagliando permanente che ha i miei dati vabbè ci sono delle cose eh fra questi articoli quello che io prediligo e tendo a sottolineare a a chi mi chiede qualcosa eh leggo l'articolo 28 della costituzione l'articolo 28 della costituzione recita i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti eh vabbè in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici allora che cosa ci determina questo le leggi c'è la legge penale non il codice di procedura penale c'è la legge civile non il codice civile c'è la legge amministrativa non il codice della strada quindi la costituzione è chiara semplice lineare non lascia dubbi quindi dobbiamo ritrovare la regolamentazione in quello scritto non in altri tu questa domanda già te la feci in occasione che ormai sei di casa quindi insomma ci si vede spesso la frequentazione diventa quasi quotidiana e naturalmente tutto questo comporta sacrificio sforzo impegno studio non è che si va a ballare alla mazzurca quindi anche vero che di valentine fusco ce ne saranno comunque sempre poco in rapporto perché comunque quante valentine fusco o quanto vale o quanti valentini fusco qualora ce ne fossero sarebbero disponibili a comunque farsi bloccare la macchina qui lì laggiù e lassù pochi 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 quindi comunque siete dei pionieri comunque sei una pioniera e quindi in virtù di questo devi cantare e portare alla croce ma sei una questo è un handicap perché come disse qualcuno è il numero che dà potenza ma se uno sta da solo e quindi questo è un po' penalizzante però tu ci sei e continui perché sei valentino io mi leggo alla storia ai miei avi e ho capito che cosa vuol dire che il mondo l'hanno sempre cambiato i pochi e quindi ho capito che se questa croce è stata data a me un motivo ci sarà la porto spero spero di portarla con onore con rispetto e con il giusto peso e quindi non con il lamento non con la negatività non con il pessimismo il peso molte volte può diventare leggerezza e io spero di portarla avanti con questo tipo di peso sicuramente col sorriso che è una delle due matrici un fatto però è certo praticamente il blocco dell'auto della vettura tu lo rischi praticamente in ognuno degli 8000 e passa comuni italiani per cui ecco per quale motivo ecco per quale motivo Alfonso questa volta che sia chiaro a tutti io non farò nessuna azione autonoma nel senso che io resterò qui fino a che i responsabili non verranno messi nella condizione di risponderne questa volta non lascerò io risoluta questa situazione non lo farò io rimarrò qui e vediamo che cosa accade perché adesso basta la misura è colma tanto per essere sintetici ora la cosa che a me lascia perplesso e se lascia perplesso me probabilmente per non dire sicuramente anche te è che fino a tre secondi fa sui social qualsiasi social italiano il dibattito si è animato non tanto dalla tua scelta di apolidia che comunque per molti rimane ancora incomprensibile quanto su questa benedetta assicurazione non pagata e su queste altre stra benedette targhe ti anticipo la domanda che avrei voluto farti in chiusura c'è molto di più dietro l'assicurazione e le targhe dico capisco che non sia magari facilissimo coglierlo ma è così e vorrei ascoltare dalla tua voce se è un sì oppure un no assolutamente sì altro se c'è molto di più e quando io sottolineo venite a far due chiacchiere perché è impossibile trattare gli argomenti nella loro completezza su un social c'è un'altra differenza tra piano e quello che sta accadendo qui in soli quattro giorni che le persone si avvicinano nel voler conoscere ed è bello perché si instaura un confronto di crescita questo mi sta piacendo tantissimo diciamo che contrariamente a quanto accaduto da piano qui non c'è nessun napolide o pseudotale che si rifiuta di pagare la tassa del parcheggio no 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 non stanno arrivando queste disfamazioni diciamo che quando si arriva a quel punto c'è una domanda ma quindi e allora è quel voler capirne di più ma quindi non paghi l'assicurazione ma quindi la targa puoi farla e e allora lì si apre un ventaglio di conoscenza ed è bello perché tu porti la persona a ragionare da solo ok e questa diciamo è una parte della nostra umanità poi però c'è un'altra un'altra fazione dell'umanità sulla quale io vorrei interrogarti vale a dire se puoi se vuoi spendere un giudizio ma secondo te tutto sommato Valentina chi è peggio chi non studia perché sa di non capire chi non studia causa pigrizia o eventualmente chi non studia perché pensa che studiando rischia di capire e quando si risvela l'amara verità è sempre un problema chi è peggio fra questi tre potenziali prototipi chi non studia per pigrizia negli altri due casi io non condivido ma rispetto cioè chi non studia perché ha il timore di dover cambiare la propria vita quindi non è un pensiero non è un'azione non è una parte di vita è cambiare completamente chi si era chi si è stati questo può sconvolgere questo può destabilizzare questo può far decidere eh no resto dove sono e quindi non condivido ma rispetto chi non vuole studiare ehm perché ehm la motivazione può essere qualunque no tu hai hai detto eh chi non vuole studiare eh perché voglio dire pigro il pigro no no il pigro è quello che non giustifico ah ok chi non vuole giustificare perché comunque voglio dire alla fine se studia qualora studiasse potrebbe anche scoprire l'amara verità e quando c'è questa amara verità oddio l'ho appena detto ma l'altra motivazione qual è chi non studia per qual è la terza che mi hai detto eh mi sono scordato Valentina insomma mi è sfuggito allora mi dico la verità sostanzialmente mi hai detto eh perché dovrebbe mettersi in discussione sotto vari aspetti tutti gli aspetti non uno solo e quindi non sarebbe in grado pensa di non esserne in grado ecco anche lì eh non condivido ma rispetto perché comunque a quel punto non è che devi studiare solo una cosa devi aprire la conoscenza a più settori argomenti situazioni e quindi non condivido ma rispetto che diventa un peso di studio importante quello che non giustifico assolutamente è chi non studia per pigrizia lì non ho giustificazioni quindi il peggiore per me è quello che non studia per pigrizia ok ora stringiamo un altro po' il campo eh sulla base di quello che tu affermi spesso perché fai riferimento ad un altro prototipo che è quello del cosiddetto scemo del paese eh allora io che sono il furbo del paese il furbo del paese io che sono assolutamente non buono e né tantomeno misericordioso come sei tu parlo invece dello scemo di guerra lo scemo di guerra è un'immagine della prima guerra mondiale lo scemo di guerra è il rintronato il rimbambito è stato allora mi chiedo ce ne sono parecchi sui social di prototipi di prototipi simili perché? perché aprono bocca pontificano fanno gli opinion leader ma non conoscono la materia e questo sinceramente a me fa specie eh allora però provo a utilizzare questi scemi di guerra per dirti questo loro non hanno studiato minimamente non ci pensano neanche però voglio dire tu che comunque sei apolide continui a studiare non credo che tutti sia come dire sono arrivato al traguardo e mi fermo cioè immagino che siano come dire eh problemi situazioni questioni aspetti che vanno comunque sempre sviscerati assolutamente sì e chi studia lo fa in umiltà eh sì ti riconosci in questo profilo di colui che studia e approfondisce tutti i giorni in umiltà sì perché non si questa è una parafrasi però è vera non si finisce mai di imparare ed è vero è vero perché se sei nella crescita non dirai mai io so sarai sempre in una posizione di curiosità di rinnovamento della conoscenza quindi non si smette mai di studiare mai ma la mia domanda è Valentina la mia domanda aveva un fondo di malizia perché io volevo portarti poi ad un'altra come dire riflessione tutto sommato sulla base di quello che è accaduto da piano e purtroppo quello che sta accadendo anche se in modo diverso a Maranello ma niente niente chi si fa paladino della cosiddetta norma la conosce poco o non la conosce o fa finta di non conoscerla vedi come sono malizioso questo era il senso diciamo che il dubbio è arrivato anche a me va bene va bene va bene allora non indaghiamo oltre invece recuperando sempre un minimo di serietà vorrei indagare su un altro aspetto vale a dire mi è sembrato di notare sui social una sorta di incattivimento di alcune polizie municipali e mi chiedo anche il perché non ho risposte mi limito ad annotare naturalmente io che sono ripeto sempre in mala fede vedo il marcio dappertutto ma è il mio ruolo potrei pensare che ad esempio c'è stato qualche siringone che è andato lì dove doveva andare quindi oppure potrebbe essere un'ignoranza crassa cioè non sai e siccome non sai fai l'energumeno corno senza divisa ti sei data una risposta? ho una terza possibilità purtroppo data anche dalla conoscenza dei documenti la struttura giuridica della legislazione successiva rispetto alle amministrazioni comunali determinerà la presenza sui territori in maniera dirompente di queste figure mi spiego meglio la polizia municipale diventerà la gestapo dei territori accipicchia cioè questa è una rasoiata la gestapo dei territori quindi quello che stiamo toccando con mano purtroppo è solo l'inizio quindi tu prevedi che di sceriffi con o senza divisa se ne vedranno sempre di più guarda proprio oggi pomeriggio una persona che era qui mi ha sottolineato la presenza di pseudo controllori sui mezzi non solo aumentata ma gestita da ragazzini con questo giubbotto con scritto autorità di controllo amministrativa comunque il dubbio rimane sempre e a volte ci si chiede ma queste polizie municipali che poi mettono la ganascia attaccano ma competenza per materia fino in fondo o perché questo sembra anche di cogliere dalle tue parole al di là di quello che che è la loro spettanza e la propria competenza sembra un po' over no assolutamente non c'è competenza e conoscenza perché ti dico questo perché quando mi ci confronto poco perché non gli lascio molto spazio ma quando mi ci confronto mi rendo conto che non riuscendo a rispondere nella conoscenza agiscono con il nervosismo e l'aggressione io non ho bisogno di urlare io non ho bisogno di aggredire io non ho bisogno di intimidire io addirittura indietreggio è nobile è nobile sentire queste parole da parte tua perché magari un pochettino vessata lo sarai stato però lo sarai stato tu sei la come dire una distributrice di sorrisi oltre che di buongiorno per alcuni irritanti per noi assolutamente no quindi caldamente invitata ad aprire le nostre giornate con il buongiorno fantastico però permettimi allora come dire Valentina di commentare al tuo commento perché io me lo posso permettere data la mia cattiveria innata magari c'è qualcuno che ha sbagliato mestiere determinate carriere non si fanno per ripiego io capisco che non tutti a scuola potevano prendere nove e dieci però poi magari alla fine si investe del ruolo qualcuno che magari starebbe meglio in una palestra a fare karate che ne so a giocare a bocce perché poi il mondo è bello perché è vario comunque lasciamo perdere e andiamo avanti ho anche qualche altra cosetta da chiedere e sfrutterò al massimo anche gli ultimi secondi proverei però un po' ad ampliare anche il discorso il ragionamento e con te che sei persona capace si può fare ora interrogandosi sui concetti di apolidia naturalmente è un discorso anche complicato va studiato approfondito ed eccetera però mi chiedo tornando sempre al discorso di coloro che dibattono sulle targhe e sull'assicurazione ma cittadini perché tali sono cittadini ma non sarebbe opportuno ampliare un po' per esempio vi siete mai chiesti le strisce sulle vostre teste che cosa sono che cosa possano essere vogliamo dirla di più Valentina tu adesso sei a Maranello ma io mi chiedo se ci fosse qualcuno in collegamento da Pesaro o da Trieste che non sono comuni detti a caso vi siete vi state interrogando su quello che potrebbe accadere nei vostri comuni perché forse verranno edificate strutture particolari questo per dire che bisogna svegliarsi bisogna guardarsi attorno ed essere critici perché se no poi si dice Valentina tanto lei c'ha la taglia falsa lei non paga l'assicurazione ma che ci vuole insegnare ecco perché dietro tutto questo c'è molto di più e ti pregherei veramente insisti su questo c'è di più perché c'è di più ma se lo dico io non conta se lo dici tu magari sì Alfonso io lo dimostro lo mostro e lo presento quando guardando negli occhi le persone rispondo a quelle che possono essere anche le obiezioni se vuoi cioè io posso anche sentirmi dire allo stesso modo che sui social l'obiezione però quando ci si guarda negli occhi è diverso stamattina c'è stata una persona che ha avuto un atteggiamento di chiusura iniziale proprio in merito alla possibilità della targa e addirittura col sorriso ironico ha cominciato a parlare con me però poi è andato via chiedendosi se fosse non un caso che lui stamattina era venuto qui chissà comunque quello ha voluto dire tantissimo c'è un'altra domanda ma ha avuto una risposta in chat però preferirei che fossi tu chiede Sonia un cittadino italiano può disconoscere il potere che si eroga alla polizia municipale quindi di amministrativa richiedendo l'intervento di carabinieri o polizia ancora sì perché non c'è la conversione in legge dell'identità digitale verrà fatta reticenza e comunque la polizia declasserà la possibilità di interfacciarsi al cittadino perché essendo identificato governativamente deve comunque passare per l'amministrazione governativa ma questo è un momento dove nella conoscenza di questa verità potremmo ancora pretendere comunque i nostri diritti ripeto nella conoscenza che il cittadino è di sua spontanea volontà amministrato dal governo può comunque pretendere l'applicazione della legge sulla pubblica sicurezza del 1931 naturalmente ciò vuol dire e non è in modo velato ma in modo palese che quando si fa riferimento a questa norma o a questo quacervo di norme bisogna sapere il titolo della norma l'anno la pubblicazione cioè bisognerebbe essere in grado di ribattere perché se comincio a balbettare se comincio a dire sì vabbè però a urlare quindi ci vuole una preparazione di fondo che è proprio quella magari Valentina ti chiedo che ti permette di dare anche quella risposta tranquilla senza esagitare i toni perché se tu rispondi in legge certo possono sempre bastonare però esatto esatto l'approccio cambia perché il più forte sei tu assolutamente sì quindi studiare 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 io non ti chiedo neanche se tu hai intenzione di aprire una scuola però voglio dire però 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 vorrei anche ormai siamo quasi in conclusione agli sgoccioli e tu io ho ascoltato sempre dalle tue labbra il fatto che tu abbia detto io ho rifiutato la scorta quindi se tu questo hai detto vuol dire che qualcuno si sarà anche impensierito in relazione alla tua incolumità e quindi onore a chi ha detto questo tu continui sempre comunque a dire non la voglio anche nella situazione di Maranello no no perché purtroppo Alfonso chi ti propone la scorta è anche poi il tuo carnifice e quindi io non voglio sto riuscendo a star lontana da questi meccanismi nel pericolo della mia solitudine in realtà in realtà poi non sono sola perché chi mi sta accanto sono persone semplici come me e sono loro che hanno un grande valore perché stanno mettendo in gioco la loro vita per starmi accanto quindi io preferisco questo a rispondere alle proposte di un futuro carnifice che oggi sembra il tuo salvatore ma domani diventa il tuo carnifice Valentina siamo in chiusura io volevo però approfittare lo faccio adesso avrei potuto farlo prima ma lo faccio adesso per leggere sono poche righe ed è un testo come dire di spiritualità dici tu che c'è zecca con Valentina c'è zecca tantissimo invece e chi qualora si appassionasse qualcuno alla politia ne deriverebbe che c'è moltissima spiritualità in questo così come devo dire porto anche l'acqua al mio mulino nel campo dell'autodeterminazione se non c'è quella lasciate perdere perché non è roba per voi allora è un è un riferimento ad un testo di spiritualità lo dico assolutamente così per quello che è è un testo iniziatico e dice dietro ogni persona ci sono anni e anni di vita sbagliata e stupida compiacente ad ogni classe di vizi debolezze di sogno di ignoranza di affettazione di mancanza di sforzo di lasciarsi portare dagli avvenimenti di chiudere gli occhi di lottare per evitare i fatti sgradevoli di mentire costantemente a se stesso di abusare degli altri e attribuire la colpa agli altri di trovare difetti in tutti di giustificare se stesso di essere vuoto di parlare male e così via carissima e unicissima Valentina se in questo io non mi rifletto non ho senso di autocritica e sono io responsabile del male che mi viene dagli altri e questo credo che tu lo possa non dico insegnare perché tu non insegni però lo puoi testimoniare amici miei amiche mie non è colpa degli altri guardate il dito per cui rinascere a nuova vita naturalmente Valentina lo fa adesso dalla sua nuova location porta la croce cantando e però se questo è Valentina ti sei imbarcata in questa avventura ormai devi arrivare al traguardo con la bandierina a scacchia a maranello questo è il motore romba sì e quindi e quindi penso che ci rivedremo spero di no da maranello spero che ci si possa vedere abbracciare incontrare tranquillamente in altre circostanze però tu sai che la fusione in diretta c'è per cui per adesso chiudiamo con un grazie grazie a te fra poco riceverai il materiale e potrai impiegarlo come meglio credi naturalmente grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e forza nei limiti del possibile un pezzettino di noi ti stia vicino grazie Valentina grazie Alfonso ti abbraccio fortissimo stai facendo hai fatto e so che farai tantissimo io sono sempre come dire una parte infinitesimale per cui per quello che mi comporta sì io sono una piccola vite di questo motore per cui è messo a punto ma girò come tutti gli altri e speriamo di girare per una buona causa questo sì Valentina grazie buona prosecuzione di avventura e noi siamo sempre qui un caro saluto un abbraccio forte grazie a presto ciao